Buona giornata a tutti gli amici di TechDifferent, vi presentiamo ora il launcher Sony Xperia installato su Nexus 4, in questo caso con Android Lollipop. Bene, nell'articolo troverete il link che vi rimanda al forum XDA dove potete scaricare la PK come se fosse una normalissima applicazione, quindi non richiede nessun permesso di root, lo potete scaricare e installare subito sui vostri device montanti Android 4.2 e superiori. Io in questo caso, come ho detto in apertura, l'ho installato sul Nexus montante Lollipop. Andiamo a vedere come si comporta, è il launcher classico di Sony, comunque tenendo premuto sulla home possiamo personalizzare la nostra schermata home proprio come Sony. Andiamo a vedere le applicazioni, facendo uno swipe dal bordo sinistro verso il centro abbiamo il menu che ci pare a tendina, molto pratico, in stile Sony abbiamo cerca applicazioni, disinstalla, l'ordine personale che ci mette le applicazioni in ordine personale oppure possiamo selezionare in ordine dei più utilizzati oppure in ordine alfabetico. Poi abbiamo le app installate e il collegamento diretto al Play Store. Quindi un porting che funziona al 100%, molto interessante, se volete provarlo fate riferimento al link che vi ho dato in articolo e diteci cosa ne pensate se vi piace o meno questo launcher alternativo. Per questo video direi che è tutto, un saluto, alla prossima, ciao!